Ricostriamo bene la vicenda. Il Marrucino in tutti questi anni ha avuto 300 mila euro, giunta Chiodi, giunta D'Alfonso. Nell'anno precedente, per iniziativa del Presidente D'Alfonso, è stato predisposto un finanziamento ulteriore per il Marrucino di 200 mila euro per festeggiare il duecentesimo. Il Presidente D'Alfonso annunciò che questo finanziamento sarebbe durato per due annualità. E arriviamo ad adesso. Divento Presidente io, il Marrucino viene e mi segnala un problema. Intanto chiede conferma di questo finanziamento e poi mi segnala il problema dei tempi. Perché mi segnala il problema dei tempi? Perché il Marrucino, per effetto dell'iniziativa speciale presa in occasione del bicentenario, ha predisposto un rapporto con il metastasio di Macerata. Io ho incontrato insieme a loro il direttore del metastasio ed effettivamente il problema dell'urgenza di una parte di questo finanziamento c'è. E io mi sono impegnato a reperirla. Noi i finanziamenti che possiamo reperire in più usciranno dall'assestamento di bilancio. L'assestamento di bilancio si farà dopo che noi abbiamo fatto il riaccertamento e dopo che andando in Consiglio regionale. Una parte di questo finanziamento prima si può fare secondo le norme, secondo i poteri che ho, che sono comunque poteri più limitati di quelli di prima, come ben noto, spostando delle risorse nello stesso capitolo, mettendole sul Marrucino e poi recuperando parte di queste risorse che sono spostate. Qui si è posto un secondo problema. Perché io qui opero nel rispetto delle norme e non potendo decidere quello che mi pare, ma decidendo cose che poi per essere attuative debbano avere la firma del dirigente che firma. Il dirigente che firma, anche sulla base delle ultime indirizzi che ci sono venuti da sede comunitaria e nazionale, dice che noi non possiamo, anche i fondi diretti, perché c'è un capitolo per i fondi diretti, li dobbiamo dare secondo una procedura. Oggi quindi si svolgerà un'aggiunta nella quale, avendo io insieme agli uffici, con uno sforzo, vi assicuro, molto complicato, reperito le risorse, spostandole, come ho detto, per trovare la riserva di... Avrei dovuto per 200 milioni, l'ho fatto per 300 milioni perché mi rendo conto che il Marrucino ha bisogno, in questo step, diciamo, di una risorsa sufficiente. La risorsa è stata individuata e abbiamo individuato anche la procedura.